Davanti a Regina Celi la mobilitazione dei garanti dei detenuti contro i suicidi negli istituti di pena. Lazzaro Pappagallo. Spesso i suicidi avvengono o nei primi momenti della detenzione o paradossalmente a un brevissimo a distanza dal fine pena. Alessandro, 33 anni, Poggio Reale. Matteo, 23 anni, Ancona. La staffetta di nomi davanti a Regina Celi per 55 detenuti e 4 agenti di polizia penitenziaria deceduti dall'inizio dell'anno va avanti per 5 minuti. Di 59, 33 sono suicidi. Negli ultimi 3 anni abbondanti, 302 persone si sono tolte la vita in carcere su 546 cessi, 23 nel Lazio su 89. La nostra regione si trova al quarto posto in questa classifica così particolare guidata dalla Lombardia. E Regina Celi è l'istituto penitenziario che nello stesso arco temporale fa registrare più suicidi. Un carcere in teoria destinato a chi non è condannato in via definitiva, oggi un inno a sovraffollamento. Nelle carceri del Lazio abbiamo addirittura 2000 detenuti in più della capienza. In questo istituto dove noi ora ci troviamo, il Regina Celi, abbiamo 1150 detenuti per 628 posti. Qui abbiamo il doppio della capienza aerorista e una cadenza di personale di 900 unità solo nel Lazio. Se oggi in Italia vivono in cacere 14.000 persone più del dovuto con risorse dedicate e volontari insufficienti, queste condizioni possono spiegare come a un certo punto il detenuto scelga di morire schiacciato dalla disperazione. Il presidente Mattarella ha chiesto attenzione e risposte e il mondo dei garanti rilancia con una mobilitazione ripresa domani a Roma dalle Camere Penali l'appello per un cacere dignitoso ed utile.